di natura sanitaria perché parliamo di una patologia di un'infezione virale acuta delle vie aeree e che tocca da vicino i più piccoli è venuto a trovarci, lo ringrazio, il primario dell'ospedale Sacra Famiglia, fate bene fratelli di erba, Fabio Focarile, buongiorno dottore, buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai a lei caro dottore, primario della pediatria dell'ospedale di erba perché c'è un progetto importante che voi come Sacra Famiglia state portando avanti, che cos'è dottore? Allora l'anno scorso durante il periodo novembre-dicembre c'è stata una vera e propria epidemia di questa patologia la bronchiolite che ha colto anche un po' di sorpresa diciamo il sistema sanitario perché l'incidenza di casi è stata molto alta e c'è stata qualche difficoltà nella gestione di questo sovraccarico che è gravato poi sulle strutture ospedaliere. È un fenomeno, problema tipicamente stagionale dottore? Sì è molto legato alla stagione ed è l'incidenza della bronchiolite in funzione delle temperature cioè quando la temperatura si abbassa ci sono due componenti nella tante di cui noi ci interessa la cosa che più conta aumenta proprio la suscettibilità e c'è comunque una maggiore attività del virus che si diffonde anche tra le persone adulte quindi poi dopo si può diciamo trasmettere. Ecco la bronchiolite quindi dicevamo un'infezione virale acuta che però riguarda mi diceva e i neonati nei primi due anni di età è corretto? Assolutamente. E poi gli over? Molto più avanti nel corso della vita il virus espiratorio sinciziale può dare delle riacutizzazioni di patologie respiratorie di tipo asmatico in soggetti predisposti quindi anche nell'infanzia anche nelle fasi successive della vita e invece di nuovo dei casi acuti e condizioni acute gravi importanti in pazienti alziani e quindi anche con comorbidità per cui si ricrea una situazione di gravità importante. Ecco questa malattia questa bronchiolite non tutti forse ne sono a conoscenza e anche ha anche un tasso di mortalità che è inferiore all'1% in Italia e quindi ovviamente però insomma. Sì allora sicuramente è problematica perché comunque la durata della malattia è di 10-14 giorni durante questo periodo un bambino piccolino quindi parliamo di un lattante non riesce ad alimentarsi a difficoltà respiratori importanti. Diciamo che la mortalità è bassa anche perché le strutture sanitarie sono in gara comunque poi di rispondere come è stato dicevo dell'altro anno. È stato un momento di difficoltà però poi le strutture regionali e anche le altre regioni italiane sono state in grado assolutamente di dare risposta perché questa patologia ha vari gradi di gravità. Ecco bravo. Colpisce circa in modo clinico evidente i lattanti un 10% 11-12% dei lattanti nel primo anno di vita però può avere vari livelli di gravità. Circa in un quarto dei casi può essere necessaria l'ospedalizzazione e a seconda delle casistiche dal 2 al 5% è necessaria una terapia intensiva o comunque un supporto respiratorio intensivo e quindi una situazione certamente difficile e problematica. Allora caro dottore intanto grazie delle sue precisazioni anche della sua chiarezza espositiva. Saluto i nostri ascoltatori. Buonasera Rosa, buonasera Clara, buonasera Nannagnese, Gianfranco, buonasera, buonasera voi. Grazie di essere con noi quest'oggi e un approfondimento di carattere sanitario che tocca da vicino proprio i più piccoli diciamo anche una categoria, le categorie fragili perché abbiamo parlato dottore dei neonati e ovviamente anche delle persone over 65 diciamo quindi per persone che purtroppo bisogna preservare ecco diciamo così cercare di tenere di tenere no di tenere appunto al riparo da eventuali problemi. Ecco il progetto che voi come ospedale Sacra Famiglia portate avanti. Che cosa riguarda? Cosa prevede dottore? In concreto? Il punto importante è che ci stia ci abbiamo pensato abbiamo detto anche quest'anno arriverà come per gli altri siamo abituati c'è sempre l'ondata nel periodo più freddo però l'altro anno sono state rilevate delle difficoltà sappiamo che la regione è attenta e quindi vogliamo essere preparati anche in questo senso è probabile che la regione mani poi delle disposizioni e le prossime settimane e però maggior ragione noi vogliamo prepararci. Elementi base sono quella di chiarire quella della nostra offerta assistenziale come ospedale quindi nel percorso tra il pronto soccorso e il ovvero ospedaliero la dimissione o eventualmente il trasferimento presso strutture di terapia intensiva. Il tutto fatto in collaborazione con i pediatri di famiglia perché appunto data la tipologia della patologia che può manifestarsi in vari modi e con situazioni di aggravamento. Come si manifesta? È la domanda da... Certo, dicevo che dura un mediamente un 14 giorni c'è una fase di schiappro dronce precedente di qualche giorno in cui il bambino comincia ad alimentarsi poco e meno attivo comincia da quel punto ad avere delle secrezioni un raffreddore sostanzialmente. Questo raffreddore in alcuni casi resta solo così e quindi la situazione è gestibilissima a casa. In altri casi da questo raffreddore si crea una situazione che poi sarà interessante secondo me descrivere di alterazione delle vie aeree per cui il bambino comincia ad avere difficoltà a respirare. Ah ecco questo è una cosa importante. A difficoltà a respirare. Un'eventuale, ecco no lo diciamo dottore perché non vorrei che in generale che ha i primi sintomi e sono abbastanza comuni quelli che lei mi ha descritto. In generale, ecco, bisogna, ecco, magari un'altra cosa, prima di andare direttamente al pronto soccorso pediatrico è meglio consultare direttamente il pediatra. Il primo punto è consultare il pediatra. Giusto? Ecco, il pediatra di famiglia che poi è l'interfaccia più importante, quello che ovviamente molte famiglie hanno come proprio punto di riferimento. Assolutamente. Giusto e corretto così? Persino in alcuni casi non è neanche necessario la visita del bambino perché se i sintomi sono molto modesti e molto sfumati, la cosa importante è appunto il monitoraggio delle condizioni del bambino che ovviamente è compito del pediatra di famiglia. Ecco, un'eventuale però difficoltà respiratoria può far scattare il classico capanello. C'è un'evoluzione che non è rapidissima ma relativamente rapida, cioè dal mattino alla sera il bambino può avere un quadro al mattino in cui ha solo il raffreddore, solo un po' un scarso appetito e alla sera fa bisogno di ossigeno che può diventare tale da avere bisogno di un supporto respiratorio, un po' questo l'aspetto. Allora, al momento, mi diceva il dottor Focarile, non c'è un intervento preventivo importante, cioè tanto per intenderci non c'è il vaccino, però si stanno studiando delle... Sì, in termini di prevenzione va detto una cosa importante, abbiamo dei dati, allora faccio anche presente che la pediatria italiana ha una posizione molto preeminente letteralmente nel mondo, nel senso che sulla letteratura scientifica degli ottimi articoli, ottimi studi, tra i più importanti li abbiamo fatti noi. C'è una grande attenzione, c'è una grande competenza. Cos'è il discorso e come si può articolare il discorso della prevenzione? Allora, va tenuto conto l'importanza, a volte misconosciuta, dell'allattamento materno, cioè i bambini allattati al seno hanno un'incidenza di bronchiolite e di bronchiolite severa, ma nettamente meno grave dei bambini non allattati al seno. Poi l'altro aspetto non di prevenzione, ma di consapevolezza della situazione è che è molto dipendente dal freddo, è un virus a RNA, ha caratteristiche simili al coronavirus, cioè un virus che ha gli spikes, anche questo, e si aggancia quindi alla mucosa delle vie aeree e anche come il coronavirus ha una discreta variabilità, forse non come il coronavirus, ma comunque una importante variabilità, anche per questo il problema vaccino ovviamente è complesso. Sul termine della prevenzione si sta studiando il vaccino da dare alla mamma durante la gravidanza in modo tale che si ottengano due cose, cioè il trasferimento di anticorpi dalla mamma al bambino, perché nei primi mesi di vita il bambino non viene vaccinato anche per altre cose, bisogna aspettare un pochino, invece in questo modo nasce con gli anticorpi già presenti. Ecco, è uno studio, non è ancora validato. È prevista la possibilità di disponibilità sul mercato per il 2024, ci siamo molto vicini. Devo dire che come ha detto lei la pediatria italiana effettivamente non ha nulla da invidiare a quella anche americana piuttosto che europea. Siamo alla pari, diciamo, poi su questo si nota una particolare competenza. Quindi il 2024 potrebbe arrivare anche questa soluzione, cioè diciamo il vaccino alle mamme in gravidanza prima del parto, giusto il dottor Foccaride? Per trasmettere appunto... Così come si è fatto per la pertosse, cioè a un certo punto negli anni scorsi ci si è resi conto che per vari motivi si stava rialzando l'incidenza della pertosse e abbastanza rapidamente anche il nostro ministero ha reagito e ha dato indicazioni per la vaccinazione durante la gravidanza. Allora, ci saluta anche Luigi e Rosa, buonasera a voi, grazie. Ci saluta anche una nostra ascoltatrice sulla messaggistica di Messenger, ci chiede, dice, se poteva mantenere l'animato. Ci mancherebbe altro, lo rispettiamo, però chiede, dottore, se ci sono appunto al momento, a parte quello che lei ci diceva, altre soluzioni per poter prevenire questo problema, questa infezione virale, oppure no? A parte quello che lei ci diceva, non c'è... Norme di prevenzione generale che possono essere, che abbiamo anche imparato, ahimè, dal Covid. Sì, ok. Cioè, il bambino è un lattantino, sì, si sposta però certamente non come un genitore che prende un mezzo, che va al lavoro, eccetera. Quindi cose molto semplici, quando si entra in casa ci si lava le mani, si usa la mascherina, si hanno sintomi respiratori. Eh, questo è molto importante. Non è solo per il Covid. Certo. E si evita il sovraffollamento, stesso discorso, ripeto, ci sono dei parallelismi, fortunatamente la patologia non è così grave perché poi colpisce solo... Perfetto, perfetto. Ora abbiamo risposto alla nostra ascoltatrice che ci chiedeva appunto qualche ulteriore specifico approfondimento. È un progetto che porta avanti la Sagra Famiglia Fatebene Fratelli, l'ospedale di Erba dove lavora il dottor Focarile. È un progetto comunque importante, anche perché, dottore, vedevo che nel vostro reparto lì a Erba, nell'ultimo anno, 60 bambini con disturbi respiratori. Sì, all'interno di questo... È un dato alto, è un dato nella norma... Purtroppo è difficile fare confronti, non esiste un sistema di sorveglianza. Gli studi che abbiamo in Italia sono basati su dati raccolti per iniziativa da alcuni grossi ospedali. Sarebbe interessante creare, tra l'altro, un sistema di sorveglianza, per esempio anche a livello provinciale. Potrebbe essere un'idea interessante. Beh, direi che, dottore, abbiamo dato un quadro generale decisamente importante. Abbiamo tralasciato qualcosa? Sì, allora vorrei dire su due versanti. Prego, prego, ci manca. Sul significato generale del progetto, il progetto è ci pensiamo e ci prepariamo per un problema importante. Non lo facciamo da soli, quindi noi definiamo bene, dichiariamo cosa possiamo offrire, in accordo con le linee guida scientifiche, le buone pratiche scientifiche. Abbiamo fatto proprio una revisione di tutto ciò che ci serve, perché si utilizzano anche delle macchine di supporto non invasivo, altri aspetti, i nostri protocolli, e li vogliamo condividere con i pediatri di famiglia, con cui sempre collaboriamo, ma in un modo ancora più organizzato. Per cui stiamo facendo degli incontri. Tra due giorni ci sarà un incontro con i pediatri di famiglia che seguono bambini, che risiedono in comuni, che afferiscono come pronto soccorso a erba, per cui sono sia della provincia di Como, sia della provincia di Lecco, sia della provincia di Como. Abbiamo questa afferenza abbastanza ampia. Quindi l'aspetto della collaborazione e della condivisione delle prassi e anche della comunicazione ai genitori, in modo tale che ciò che è l'indicazione che dà il pediatra di famiglia corrisponde poi a quella che può dare il pediatra. Nel senso, se il pediatra ci manda un bambino, è un bambino che va mandato, che abbiamo condiviso, che ha condizioni che va mandato, quando arriva diciamo ok, tocca a noi e quindi ce ne occupiamo. Poi mi piacerebbe, aggiungo, solo trovare un momento per dire proprio come funziona questa patologia, cioè cosa succede nel corpo quando si è infettato, perché è abbastanza anche interessante. Allora, adesso glielo faccio dire. Voglio condividere con lei due pensieri di due nostri ascoltatrici, credo le faccia anche piacere. Dottor Foccarille, buonasera, ci scrive Dolores. Veramente un aiuto in questo modo, lei sta spiegando molto bene. Quando ho avuto io e i miei figli, non ho avuto questi aiuti. Quindi grazie della sua presenza. Ciao Dolores, grazie a te. E Adriana condivide con noi un suo ricordo, il ricordo del 71. Ci saluta anche Ruggero. Ciao caro Ruggero. Diceva, il ricordo di Adriana è del 71. Dice, allora non c'era il pediatra di famiglia. Mia mamma ha chiamato il medico di famiglia, mia sorella aveva sei mesi, l'ha spedita in ospedale e è stata lì 40 giorni. Non sapevo che fosse virale. E' noto che negli anni si è andati avanti. Adriana, io credo che i passi in avanti anche della pediatria, giusto dottore? Certo. Sono stati estremamente importanti rispetto al 71. Non è che stiamo parlando dell'anteguerra, però in effetti in questi anni, Adriana, grandi passi in avanti. Un saluto anche allora alla nostra Dolores. Ecco, prego dottore, può concludere? E scusi se l'ho interrotta, ma i nostri ascoltatori sono... Sono qui per rispondere, per fare una conferenza. Assolutamente, interattivi interattivi. Mi aggancio a un'altra cosa. L'informazione. Allora, i pediatri come altre specializzazioni siamo organizzati in società scientifiche. Queste società valutano le situazioni, danno delle indicazioni e danno anche, costruiscono un'informazione. Un'informazione molto semplice da dare alle ascoltatrici e agli ascoltatori. La società italiana di pediatria, SIP, ha predisposto un video consultabile su YouTube sulla bronchiolite. Ah, ecco, perfetto. Molto bene. Fatto molto bene. Possiamo anche metterlo nei commenti eventualmente, dottore. Quindi lo condividerò... Nel nostro pronto soccorso, nel nostro schermo che trasmette informazioni varie agli utenti, gira anche questo video che è accessibile per tutti, è fatto benissimo. Molto bene. Ecco, dottore, per chiudere, grazie della cortesia, della chiarezza, non deve essere un allarme, una cosa... È una info importante che noi abbiamo cercato di dare e soprattutto, ecco, è rivolto ai neogenitori. È corretto? Sì, assolutamente. Più che altro ai neogenitori. Perché parliamo del primo e secondo anno di vita. Esatto. No, assolutamente non è un allarme, anzi, il progetto è... Sappiate che ci siamo già, ripeto, l'altro anno, pur nelle difficoltà, poi la risposta c'è stata... Beh, l'anno scorso, a quest'ora, c'era ancora un po' la situazione anche Covid non ancora definita, eh, dottore, se ricordiamolo bene. Per cui, insomma, ecco, quindi... Siamo però, la caratteristica dell'alta... Allora, ha una forte stagionalità. Certo, certo. In genere, tra la metà di dicembre e i primi di... e fine febbraio. Perfetto. L'anno scorso il picco è stato molto anticipato e proprio probabilmente si era valutato per effetto del Covid. L'altra cosa, sul piano anatomopatologico, se posso dire una cosa, perché è importante sul decorso della malattia... Ci mancherebbe, ne ha facoltà, caro dottore. ...del decorso della malattia, il fatto che questo virus, come funziona? Praticamente uccide, danneggia, uccidendole le cellule della mucosa respiratoria. Per cui, in questa situazione, queste cellule si formano dei tappi, dei tappi di muco, misto muco e cellula, che determinano questa problematica. Quindi c'è un'infiammazione comunque generale. Ma poi si formano questi tappi, che sono il problema un po' più importante. La patologia, dicevo, ha una fase precedente di qualche giorno, poi inizia con raffreddore, peggiora nella fase... entro 3-4 giorni raggiunge il momento peggiore e poi, diciamo, ha un declino graduale in una durata totale di 14 giorni. Un saluto lo faccio anche a Gianfranco, che ci sei. Ciao Gianfranco e anche a Ruggero. Buonasera a voi, alle nostre amiche, a Dolores e Adriana, che ci hanno scritto, a Clara e a Rosa. Buonasera, grazie. Agnese, sì, ci sei anche tu. Perfetto. Io credo che abbiamo fatto anche oggi una importante vetrina informativa relativa alla bronchiolite, questa infezione virale acuta, della quale oggi, con grande competenza, ci ha parlato il primario dell'ospedale, appunto, di pediatria dell'ospedale di Erba. Fatebene, fratelli Sacra Famiglia, Fabio Focarile. Dottore, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero di essere venuto. È un piacere averla ospitata.